Salve a tutti fratelli e sorelle benvenuti nel nuovo appuntamento di messaggi e profezi di oggi 14 giugno 2019 Dio vi benedica e sia rodato nostro Signore Gesù Cristo Come avete visto dalla locandina e dalla miniatura abbiamo scritto questa bellissima frase Dio ha fretta E' veramente il Signore ha fretta per quale motivo fratelli e sorelle? Perché la conversione deve essere oggi non domani e soprattutto i tempi stanno andando in maniera così veloce fratelli e sorelle Che poi non ci sarà più possibilità successivamente Anche se il Signore ci aspetterà fino all'ultimo momento Ma guardate che il tempo scorre veloce e più scorre veloce e più ovviamente abbiamo meno possibilità di fratelli e sorelle Quindi è adesso che bisogna convertirci fratelli e sorelle non domani o non tra un anno Ma adesso perché domani potrebbe essere già troppo tardi Ma andiamo a vedere i messaggi riferiti in questa puntata Messaggio di Anguera 25 maggio 2019 E dice questo Quelli che sono con il Signore non devono temere nulla Nella grande finale tribolazione i giusti saranno protetti Il Signore non vi abbandonerà Piegate le vostre ginocchia in preghiera perché solamente con la forza della preghiera l'umanità troverà la pace Voi siete importanti per la realizzazione dei miei peani Dio ha fretta Quello che dovete fare non lasciatelo per il domani Io sono la vostra madre e vengo dal cielo per chiamarvi alla conversione Siate umili e miti di cuore Fortificati nell'ascolto dell'Evangelo E nutritevi del prezioso alimento della Santa Eucaristia La vostra vittoria è nel Signore Camminate verso il suo incontro Perché Lui vi aspetta a braccia aperte In questo momento faccio cadere dal cielo sopra di voi una straordinaria pioggia di grazie Aprite i vostri cuori e accettate la volontà di Dio per tutte le vostre vite Vedete ecco dove il titolo ovviamente della puntata di oggi è proprio quello Quel Dio ha fretta Cioè convertiamoci adesso perché il domani potrebbe essere pure troppo tardi fratelli e sorelle Per questo che il Signore ci dice di farlo adesso Non di farlo domani fratelli e sorelle ma di farlo proprio adesso Se si fa adesso un discorso se si fa domani è troppo tardi fratelli e sorelle Quindi è adesso che dobbiamo fare queste cose Secondo messaggio è di Edson Glauber Itapiranga 25 maggio 2019 E dice il messaggio Dio nostro Signore sta chiedendo la preghiera di tutta l'umanità Con il sincero pentimento dei loro peccati Affinché le terribili punizioni che stanno per cadere su di esse siano mitigate Figlioli il mio cuore soffre quando non vi fidate la mia intercessione materna davanti al sacro cuore di mio figlio Gesù Non rinunciate alla speranza ma rinnovate sempre più la vostra fede Dio non è contento dei peccati del mondo Il suo braccio divino pesa sui peccatori ingrati che non vogliono pentirsi o seguire le sue sante vie Quindi vedete il Signore ci sta dicendo sbrigatevi Fate fretta non aspettate domani fratelli e sorelle ma adesso dovete farlo Perché poi sarà troppo tardi come già vi ho detto già in questa puntata Ultimo messaggio di oggi è di Anne Mewis Germania 19 maggio 2019 e dice Miei cari figli ben presto sentirete il mio intervento avvicinarsi sempre più I segni nel cielo ve lo dico chiaramente I segni del cielo ve lo dicono chiaramente Che l'intervento divino sta per avvicinarsi Continuate a osservare il firmamento perché tali segni vi delizieranno Fate udire il vostro grido di gioia Ancora poco e Satana cadrà per sempre nell'abisso Ma lui esercita ancora il suo ultimo potere Solo quelli senza fede di poca fede soccomberanno al suo potere Hanno scelto la via più facile e soggiacciano ai piaceri mondani Procedono nel modo sbagliato e si lasciano influenzare dagli uomini e da ogni cosa mondana Non si rendono conto che è la strada sbagliata Credono fermamente di essere nel vino e vogliono trascinare altri alla ruina Quindi vedete che fratelli e sorelle la situazione come vedete è molto difficile È molto pesante fratelli e sorelle Ecco perché il Signore ci dice che ha fretta Perché? Perché la situazione sta peggiorando fratelli e sorelle E il Signore non vuole la morte del peccatore Ma vuole che il peccatore si converta come c'è scritto nella Santa Bibbia Quindi questo è quello che vuole veramente il Signore e nostro Signore Gesù Cristo La Vergine Maria che interviene ovviamente e sempre con questi messaggi che arrivano dal cielo Perché è Dio che vuole che si faccia questa sorta di allerta massima per tutti fratelli e sorelle Perché se facciamo finta di non capire poi ognuno di noi prenderà il suo da questo punto di vista Quindi per questo che bisogna convertirsi oggi Chiedere la grazia al Signore Gesù E avere fede E avere sfede che ci aiuti ovviamente ad andare avanti in questa vita Dio vi benedica Sia lodato Gesù Cristo Sia fatta la sua santa volontà Se volete e se potete Iscrivetevi ovviamente al nostro canale Dedicato al Signore Gesù Se volete e se potete Diffondete la parola di Dio e questi video messaggi Se volete e se potete Aspettate la nostra programmazione Che vi diremo quello che faremo anche oggi Fratelli e sorelle Noi vi daremo tutte le varie indicazioni Soprattutto per il pomeriggio Perché sapete che la mattina bene o male Se Dio vorrà Insomma vi daremo i giornati ovviamente Per le puntate del pomeriggio e della sera Ovviamente Dio vi benedica Sia fatta sempre la sua santa volontà Ave Maria E alla prossima puntata